Musica, sorrisi e tanta magia. Un evento divertente e spensierato quello che si è svolto ieri a Paceco per la quindicesima edizione della Carnevalata. Le strade sono state prese d'assalto da migliaia di persone per la manifestazione organizzata dalla Proloco di Paceco. Dieci i carri in totale, ognuno con un proprio tema e dei balli con coreografie appropriate che sono stati curate da varie associazioni del territorio. Un'atmosfera carica di allegria e fessa dunque, che ha divertito grandi e piccini. Presenti poi anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Paceco Giovanni XXIII, che quest'anno hanno rappresentato i valori dello sport. Il loro carro, che era quello che apriva il corteo, era sicuramente il più atteso. Rappresentava infatti il presidente Valerio Antonini, oltre ad alcuni giocatori delle squadre trapanesi di calcio, pallacanestro e pallamano. La festa continuerà oggi pomeriggio, alle 15.30 infatti, la grande sfilata dei carri allegorici e delle maschere, con partenza dalla scuola elementare Giovanni XXIII, alle 21.30 invece, spazio al divertimento con i 40 che ballano 90, alle 23.30 poi, lo spettacolo pirotecnico. Il carnevale nostro, ormai arrivato alla quindicesima edizione, come dicevo giorni fa in un'altra intervista, negli anni è cresciuto, è cresciuto in termini anche di numeri di carri, è cresciuto in termini di associazioni, perché bisogna ricordare a tutti che se oggi paesi come Paceco, realtà come Paceco e Valderice, riescono ancora a fare il carnevale grazie al grande lavoro delle associazioni e all'organizzazione, in questo caso della Proloco, che riesce a gestire il lavoro di tutte queste grandi associazioni e quindi c'è questa voglia, ancora oggi, e speriamo che rimanga nel tempo, di organizzare questa grande manifestazione. Grazie a tutti.